Abbiamo avuto un incontro presente all'assessore regionale Nappo per illustrare in anteprima i PIF, cioè i programmi integrati di filiere. Che cosa sono i programmi integrati di filiere? Sono mettere insieme degli allevatori o altri soggetti per tipologie di attività. Nel caso degli allevatori, i caseifici, quelli che lavorano in tutta la galastia latte, metterli insieme. Noi proprio in questi giorni saranno pubblicati i bandi e io mi auguro che il Vallo di Diano, ma soprattutto gli allevatori del Vallo di Diano, si mettono insieme per dare veramente un valore a quelli che è il prodotto principe del Vallo di Diano, il caciocavalli, i prodotti lattieri caseari. Gli altri prodotti sono veramente eccezionali, ma quelli che possono andare oltre i confini del Vallo di Diano sono i lattieri caseari. Gli altri prodotti, beh, dobbiamo fare uno sforzo. Gli altri prodotti devono trainare il territorio. Non sono in quantità tali da poter permetterci il lusso di andare nella grande distribuzione, né ci dobbiamo andare. Però sono tanti prodotti che debbono concorrere a realizzare il mercato e qui i consumatori devono venire nel territorio dove c'è la Certosi di Patule, c'è il paese tegiane con le sue ricchezze, c'è il battisterio di San Giovanni, c'è la chiesa di Sant'Antonio e di San Pietro e tanti altri ancora. Bene, noi dobbiamo coniugare, dobbiamo mettere insieme non solo le bellezze artistiche, i tesori, le cose, ma anche le nostre produzioni agricole che non hanno nulla da invidiare ad altre, soltanto che dobbiamo farle uscire allo scoperto e dobbiamo saperle valorizzare. Per fare questo occorre mettere insieme non soltanto gli allevatù, ma occorre la spinta determinante anche delle amministrazioni che ne stanno prendendo coscienza e si stanno muovendo proprio in questa direzione. Grazie a tutti.